8 segreti del marketing dei contenuti per promuovere con successo un marchio Il content marketing è uno dei metodi più efficaci per ottenere visibilità per un marchio e portare potenziali clienti nell'imbuto di vendita. Integrando la distribuzione strategica, l'ottimizzazione per i motori di ricerca e le tattiche inbound come parte di questo approccio, la maggior parte delle aziende vede ottimi ritorni sui propri investimenti nel content marketing. Costruire una strategia di content marketing intorno a obiettivi specifici che l'azienda vuole raggiungere aiuta a restringere il campo d'azione, migliorando i risultati. La promozione del marchio, ad esempio, richiede contenuti diversi rispetto al marketing di prodotto. Qui i membri del Consiglio dei Giovani Imprenditori esplorano 8 segreti del content marketing che tutti i dirigenti d'azienda dovrebbero conoscere per promuovere con successo il proprio marchio. 1. Concentrarsi sui contenuti che risolvono i problemi Concentratevi innanzitutto sulla creazione di contenuti che risolvano i problemi. Le aziende sono spesso ossessionate dai contenuti top of the funnel che aumentano il traffico senza produrre conversioni, oppure si dilungano sulle nuove revisioni dei prodotti e sulle caratteristiche più interessanti senza fornire un contesto sufficiente. Concentratevi invece sul vostro pubblico di riferimento. Realizzate casi d'uso per mostrare come il vostro marchio offre soluzioni di successo, intervistate clienti di successo o create demo esemplari con cui i vostri potenziali clienti possano giocare prima di mettersi in contatto. Semplificate il processo colmando il divario tra un servizio o un prodotto e il risultato effettivo nel contesto dell'attività del vostro cliente ideale. 2. Generare idee dalle tendenze dei social media Generate idee per i contenuti dalle tendenze con cui i vostri clienti interagiscono sui social media. Ad esempio, se il vostro target è la generazione ZI Millennial, controllate cosa sta succedendo su TikTok, Instagram, Reddit e YouTube per vedere in cosa sono impegnati e su cosa stanno creando i propri contenuti in questo momento, e poi unitevi a loro. 3. Coinvolgete il vostro prodotto o servizio sfruttando le tendenze online per aumentare la consapevolezza del marchio tra i vostri clienti. Create blog e video sul vostro sito che trattino argomenti di tendenza e mostrino come i vostri clienti possano raggiungerli o esserne coinvolti, idealmente, utilizzando i vostri prodotti e servizi. Distribuite poi questi contenuti sui canali sociali appropriati per riportare il traffico e le vendite sul vostro sito. Mostrate ai clienti come possono ricreare le tendenze con i vostri prodotti. 3. Incorporare un formato QEA Uno dei migliori segreti per il successo del content marketing è incorporare un formato QEA nei vostri contenuti. In ultima analisi, il content marketing serve a generare l'esposizione del marchio attraverso il traffico di ricerca sul web, quindi l'ottimizzazione per la ricercabilità è fondamentale. Uno dei principali modi in cui i motori di ricerca analizzano i risultati che trovano sul web è quello di far corrispondere i contenuti alle query che gli utenti inseriscono nella barra di ricerca. Quindi, un buon punto di partenza per decidere cosa includere nel vostro content marketing è porsi il tipo di domande che i vostri clienti ideali fanno nelle loro ricerche online. Verificate quali sono i risultati dei concorrenti più quotati e assicuratevi che i vostri contenuti rispondano alle stesse domande in modo esauriente e realmente utile. In questo modo non solo aumenterete il vostro valore per il cliente, ma otterrete anche un aumento gratuito del traffico. 4. Riutilizzare e riproporre i contenuti Una delle sfide più grandi per i marchi di tutti i settori è pubblicare e condividere contenuti in modo coerente. Creare contenuti di alta qualità richiede tempo, ma questo è l'obiettivo che ogni brand dovrebbe perseguire. Quando si è accorto di tempo o semplicemente si è accorto di idee fresche, un ottimo modo per condividere contenuti di qualità è quello di riproporre i contenuti esistenti. Riutilizzare tutti i contenuti esistenti, o parte di essi, in un formato diverso è un ottimo modo per risparmiare tempo, ampliare la vostra portata e far felice Google. Iniziate a individuare i contenuti che hanno ricevuto il maggior coinvolgimento, quindi stabilite il formato più adatto. Costruite un'infografica per rappresentare visivamente i contenuti, ad esempio, o create una presentazione slideshare da un post del blog. 5. Fate in modo che i vostri contenuti si estendano Il più grande segreto del content marketing è che bisogna lavorare sodo per far sì che i contenuti si estendano. La maggior parte delle aziende si limita a diffondere i contenuti nell'universo senza un sistema per catturare l'interesse, convertire i contatti, riciclare i contenuti o sfruttare più piattaforme. I veri vincitori tengono a mente il quadro generale e si danno da fare per mettere in atto elementi più in basso nell'imbuto e in vari altri luoghi per massimizzare i contenuti che stanno diffondendo. Tradotto con www.dpelle.com barra translator, versione gratuita. 6. Spingere i pulsanti emozionali del pubblico L'ingrediente segreto del successo del content marketing è l'emozione. Indipendentemente dal tipo di contenuto che state creando, cercate di trovare il modo di colpire i tasti emotivi del vostro pubblico. Potete scegliere di ispirarli, farli ridere, indurre la paura di perdersi o stuzzicare la loro curiosità. Se osservate i post più importanti sui social media e nell'arena dei blog, sono quelli con titoli e contenuti emotivi a spiccare maggiormente. Utilizzate le emoji, lavorate sui titoli e cercate di creare contenuti che emozionino le persone e portino più traffico al vostro marchio. 7. Cercare di educare ed evidenziare le competenze I contenuti svolgono diverse funzioni importanti, dall'affermarsi come autorità nella vostra nicchia al richiamare l'attenzione sui vostri prodotti e servizi, fino all'ottimizzazione per i motori di ricerca. Spesso è possibile combinare questi scopi in un unico articolo. Tuttavia, molti post di blog, video e altri contenuti hanno uno scopo più specifico. Come strategia di contenuto principale, cercate di educare e dimostrare la vostra esperienza, piuttosto che vantarvi semplicemente del vostro marchio o dei vostri prodotti. Ciò significa andare oltre la propria attività per esaminare questioni più ampie del proprio settore e vari problemi che interessano il pubblico. Questo non solo aiuta la SEO, in quanto è possibile posizionarsi per un maggior numero di termini, ma aiuta anche a creare fiducia, in quanto dimostra che siete una persona esperta nel fornire soluzioni. 8. Non ignorate la distribuzione dei contenuti La distribuzione è importante quanto la creazione All'inizio dello scorso decennio, tutti parlavano dello status reale dei contenuti. E sì, in larga misura il contenuto è il re. Ma è la distribuzione a farla da padrona. Potete creare ottimi contenuti in modo costante per un lungo periodo di tempo, ma se non riuscite a farli arrivare al vostro pubblico, non avete raggiunto la comunicazione o i risultati commerciali che ne derivano. Mentre fate ricerche di mercato per ottenere informazioni demografiche, scoprite dove si riuniscono i vostri potenziali clienti online. I commenti su YouTube, le newsletter via email, gli influencer sui social media, le tendenze a cui sono interessati e molto altro ancora possono offrire spunti su come distribuire i vostri contenuti una volta creati.